Musica Cari amici di Mr. Salpacento Siamo qui al poligono E oggi siamo qui al poligono per farci male Nel senso che abbiamo portato il più grosso calibro dal revolver Che è il 500 Magnum E andremo a sparare tre colpi sul nostro mino giù Come potete vedere indosso dei guanti Perché questo qui è un calibro molto punitivo Il modello che vi proponiamo oggi è un modello compensato Con una canna da 8,35 pollici E andiamoci a fare male Le cartucce che stiamo utilizzando Sono delle Magtec 325 grani Flat nose Let's do it Let's do it Let's do it Le mani frizzano Partita sta contando? No, i secondi li vedi? Si, 14 No, i secondi li vedi Ok Grazie a tutti No, i secondi li vedi